cortesemente buongiorno questo signore che mi sta disegnando con varie maniere certo sarà una persona che ama lo scherzo ma credo che in questo momento lo scherzo non bisogna farlo grazie a la prima ora a la prima ora a la prima ora la prima ora a 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 la prima ora YEEHEE! Put I'll get motivation. Look, where are you? Let me go. Are you ready?